ciao amici di fan week è veramente una fan week è vero è vero perché ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a battere il guinness world record del maggior numero di persone radunate e vestite da sole si radunandoci abbiamo veramente portato il sole perché era brutto tempo invece adesso è uscito il sole grazie a tutti per avere partecipato capite la potenza di questa iniziativa e poi siamo in un posto bellissimo grado di zona del sole e vi salutiamo ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato grazie mille ciao